musica 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 Guardi che vola Cazzo è spawnato da me l'ATST! E' a post prenderlo E lo hai dovuto il cazzo, perchè devo dispanare addosso a me? Bellissimo con gli Ionio Gli proiettili blu Ups Ci sono solo 3 nemici eh Dai posso imboscare qua dentro? LOL Pure io qua mi sono imboscato BAH Cos'è 4 che fai? Orbital Strike Usalo Ma non addosso a me Guardalo Guardalo Esplode Guardalo Ehm bellissimi gli effetti prende il pod prende il pod prende il pod Grazie a tutti.